Gloria, aspetta un bambino, di Luca. Io sono sicura che tu lo ami ancora. E anche lui è innamorato di te. Sì. Luca, ciao, sono Laura. Io ho bisogno di vederti. Ti aspetto. Ciao. So che stai passando un momento difficile. In questi casi c'è sempre bisogno di un amico. Sei sempre così insistente. Grazie. Brava la nostra dottoressa Cellini. Sono convinto che sotto ci deve essere un'altra spiegazione. In Cantesimo, da domani, tutti i giorni, alle 12 su Rai 2.